Salve a tutti, allora un video al volo al volo per alcuni chiarimenti. Ieri ho fatto uscire la vignetta diciamo umoristica per quanto riguarda Chiara d'Alessandro e l'ho voluta reinterpretare così come l'ultima cena di Da Vinci. Secondo me è stata quella meno tra virgolette offensiva che abbia mai fatto perché ho solo fatto una trasposizione di un dipinto con la raffregurazione della famiglia stessa di Chiara d'Alessandro. Volevo precisare a chi mi diceva che Sharon, la figlia, non entrasse in merito al disegno e al video. Io ribadisco che testuali parole di Chiara d'Alessandro sono state Oggi non andiamo perché io ho detto in maniera più educata la dissenteria mia suocera soffre di ansia, mia madre ha la congiuntivite andremo la settimana prossima con mia figlia Sharon, mia mamma, la sua Cerina, Davide e io insomma. Perciò come mi ha detto, come mi è capitato di sentire queste parole mi è venuto subito in mente di ricrearle cioè mi è apparsa proprio l'ultima cena insomma praticamente non l'ho fatto con cattiveria, non volevo assolutamente anzi se mi ricapiterà perché comunque sia Chiara d'Alessandro ci offre delle perle proprio su un vassoio d'argento e come non puoi non cogliere l'occasione insomma e poi mi prudono le mani perciò se mi si scatena un'idea in testa è ben difficile che io riesca a trattenerla ecco la gente deve capire che c'è una bella differenza tra una vignetta umoristica dove comunque ci passi delle ore perché ci perdi tempo a dipingerle, a disegnarle a cercare comunque di non caratterizzare troppo i personaggi non renderli troppo reali ma tenerli comunque in una forma di caricatura ci stanno comunque ore di lavoro a differenza delle live buasta come fa per esempio Chiara d'Alessandro o altri personaggi del genere dove comunque criticano a priori, si maledicono morti, non morti esseri umani, cioè non c'è più ormai una dignità io penso di essere superiore a queste cose perlomeno mi reputo superiore a queste cose perché ho comunque creato un qualche cosa che non si vede tanto in giro ho avuto l'idea mi sono permessa di farlo perché ho delle leggere capacità artistiche non sono un pittore chissà quanto importante ma ho delle leggere capacità ho avuto a sfruttare ogni tanto quest'idea del per culo quello sano, quello buono bene, detto questo io non ho visto stories su Instagram non ho visto la live suddetta della Sharon su YouTube non mi ha per niente nominato non ha nominato il mio canale non mi ha messo in difficoltà in alcun modo le stories su Instagram giustamente dopo un po' vanno via io dormivo perché come tutte le persone umane penso che a un certo orario dormino e perciò non mi sento di dirle niente di particolare o colpe di vodizzarla di qualche cosa o non lo so a me sinceramente non ha fatto nulla ha solo fatto un commento tranquillo sul mio canale l'ho accettato come vedete ho risposto in maniera molto garbata come è garbato il suo commento e per questo volevo dire per favore ai miei followers io vi ringrazio e mi difendete a spada tratta veramente mi rendete proprio orgullosa però bisogna moderare i termini bisogna essere educati rispettare le norme della community bisogna essere educati va bene il per culo sano non mi piacciono le parolacce non mi piacciono le volgarità e non mi piacciono le offese gratuite perciò vi prego moderati i termini discutete amabilmente tutto quello che volete parlate perculate ma per favore rimanete cercate di rimanere fra le righe ecco di non peggiorare una situazione che per me è un peccato perché io adoro disegnare adoro anche rappresentare queste vignette vorrei continuare a farlo un abbraccio grosso alla prossima ciao ciao ciao